Non solo il valore di Bitcoin è aumentato nell'ultimo anno, anche le opzioni disponibili per conservare Bitcoin sono cresciute a dismisura. In quest'ultimo periodo sono presenti così tante possibilità che un neofita Bitcoin potrebbe sentirsi estremamente confuso e non sapere da dove partire. Ricorda che non importa cosa tu scelga, c'è sempre un compromesso tra convenienza e sicurezza. Anche se la privacy è un fattore, in questa sezione assumiamo che tu non sia disposto a fare il passo in più per essere anonimo e cancellare ogni traccia finanziaria. Le tue criptovalute sono sicuro quando nessuno al di fuori di te è in grado di accedervi. Questo può essere difficile da misurare in quanto vi è un gran numero di incognite. Un buon modo per pensare alla sicurezza è immaginare quanto sarebbe costoso compromettere i tuoi Bitcoin. La sicurezza può essere migliorata attraverso forme fisiche di protezione come casseforti e cavo. Un laptop custodito in un auto in un parcheggio abbandonato offre sicuramente una sicurezza diversa da quella di un altro tenuto in un edificio ben custodito. Allo stesso modo la sicurezza di un file criptografato dipende da quanto casuale e sicura è la chiave di criptografia utilizzata. Una password con 10 caratteri potrebbe essere già craccata dopo mezz'ora, mentre una passphrase con 20 parole necessita di millenni. La sicurezza del tuo telefono e computer dipende dall'hardware interno e dalla frequenza di aggiornamenti software. Uno smartphone moderno con installato il software più recente disponibile potrebbe richiedere milioni di dollari americani per essere hackerato da remoto, mentre un vecchio telefono potrebbe essere preso di mira e hackerato da chiunque se clicchi anche solamente su un link sbagliato. La perdita è una procurazione relativa alla sicurezza che è molto difficile da comprendere. Potresti perdere il telefono o dimenticare la tua password. Il fuoco e le calamità naturali, nonostante sembrino vecchio stile, possono ancora rappresentare una seria minaccia per la tua valuta virtuale. È molto più facile misurare la convenienza che la sicurezza. Quanto è facile per te spesso valuta? Quanto velocemente riesci ad accedere ai tuoi fondi? Un wallet online è probabilmente il più conveniente in quanto è necessario solo un computer o uno smartphone per accedervi. Un wallet installato direttamente come app sul tuo telefono è ancora relativamente conveniente visto che lo avrai con te la maggior parte del tempo. Un paper wallet multisig distribuito in tutto il mondo sarebbe molto difficile da riassemblare per ladri, governi o hacker, ma per riassemblarlo dovresti tu stesso per primo salire su una serie di voli oltreoceano. Ma cos'è un paper wallet? Un paper wallet è solitamente un foglio di carta che contiene il seed di backup di un portafoglio o le chiavi private stesse. Visto che la carta non può essere facilmente hackerata da remoto, è considerato come una delle opzioni di gestione di criptovalute più sicure. Come con qualsiasi altro tipo di wallet, è importante che crei le chiavi private personalmente e che nessun altro ne abbia accesso. In quasi tutti i casi dovrai creare un paper wallet da solo. Quando devi decidere tra sicurezza e praticità, prendi una decisione in base a quando vorrai accedere nuovamente ai tuoi fondi. Se stai tenendo bitcoin in ottica di lungo termine, hold, opta per l'opzione più sicura e prendi in considerazione il rischio di scordare la password principale nel tempo. Quando tieni bitcoin per fare acquisti, non conservare più di quanto tu intenda spendere e mantieni tale cifra di bitcoin sull'app del tuo wallet per smartphone in modo da averli pronti quando ne avrai bisogno. L'utilizzo di bitcoin può essere definito da due variabili indipendenti, ovvero il volume delle transazioni e il valore della transazione. In base al fatto che questi valori siano alti o bassi, cambia radicalmente il tipo di wallet bitcoin adatto a te. Il volume delle transazioni è il tasso di transazioni bitcoin che effettui. Questo potrebbe significare una transazione al giorno o solo una settimana. Cosa significa alto-basso? In questo caso è arbitrario. Il valore della transazione è il valore in bitcoin di una determinata transazione. Ciò che finisce un gran valore di bitcoin è una cosa altrettanto ambigua. Una buona regola empirica da seguire è considerare un basso valore di transazione inferiore o uguale all'importo di denaro che ti sentiresti al sicuro di portare in giro come contanti in tasca. Tutto ciò che è più grande di quella cifra può essere considerato di alto valore. Considera l'utilizzo di più wallet per mitigare il rischio. Non è assolutamente necessario che ti limiti ad una soluzione. Forse il modo con cui utilizzi bitcoin include tutti i casi d'uso elencati di seguito come piccoli pagamenti regolari, pagamenti regolari di grandi dimensioni e investimenti a lungo termine. Considera la possibilità di utilizzare più opzioni in parallelo per rendere contemporaneamente i tuoi bitcoin accessibili e sicuri. Quindi, transazioni ad alta frequenza con basse quantità. Il mobile wallet. Se stai effettuando molte transazioni con un valore basso, ad esempio per comprare calzini, tè o una VPN, dovresti optare sull'utilizzo di un wallet mobile di cui controlli le chiavi. Con un wallet mobile i tuoi bitcoin sono sempre accessibili finché il tuo telefono è carico. Se usi uno smartphone moderno con un sistema operativo aggiornato, i tuoi bitcoin dovrebbero essere al sicuro. Non dimenticare di eseguire il backup del seed su un foglio di carta e di tenere quel foglio di carta al sicuro. Ma quali sono le caratteristiche di un buon wallet? Esistono molti wallet bitcoin. Trovare quello giusto per te potrebbe volerci un po' di tempo. Sentiti libero di scaricarne più di uno e testali. Esplora l'interfaccia utente un po' prima di decidere dove terrai i tuoi bitcoin. Ricorda che non devi prendere una decisora immediata. Puoi decidere di inviare i tuoi fondi su due wall in una sola volta e spostarli successivamente in un unico wallet. Quindi, ricorda e tieni sempre a mente le commissioni. Le transazioni via bitcoin costano denaro, ma per stimarne l'importo corretto è una grande sfida ingegneristica. Alcuni portafogli ti permettono di fissare le fees manualmente, mentre altri ti permettono solo di scegliere tra transazioni accelerate e transazioni economiche, che possono essere grossolamente sovrastimate appunto. Teni a mente inoltre la custodia. In un buon wallet mobile tu stesso hai il controllo dei tuoi fondi e delle chiavi. Nessun altro. Ricordalo. SPV o no? SPV, oppure chiamato anche Simplified Payment Verification, è una tecnologia che consente al tuo wallet mobile di collegarsi direttamente alla rete bitcoin. Questo potrebbe portare il wallet ad essere un po' più lento e consumare più dati, ma porta il beneficio di essere sempre online. Un altro inconveniente dei portafogli SPV è che potrebbero molte volte confondersi durante un fork della rete. Transazioni ad alta frequenza di alto valore. L'hardware wallet. Sei spesso a che fare con molte transazioni e molti bitcoin, come nel caso che tu stia conducendo un'attività che accetta bitcoin come forma di pagamento, o se stai pagando parte del tuo staff in criptovalute, allora hai bisogno di un hardware wallet. I portafogli hardware sono solitamente delle chiavette usb e conservano i tuoi bitcoin al sicuro tramite chiavi private sotto il controllo di un chip specializzato. Gli hardware wallet più affidabili sono il Ledger Nano S ed il Trezor. Transazioni a bassa frequenza di alto valore. Paper wallet. Se disponi di risparmi significativi in bitcoin e non effetti in molte transazioni, un paper wallet è l'opzione migliore. Non utilizzare un servizio online per creare il tuo paper wallet, piuttosto crearne uno da solo offline. La via più sicura è procurarsi una copia del sistema operativo Tails, che viene fornito con il wallet Electrum installato. Vai offline, nasconditi sotto una coperta, avvialo e crea un wallet bitcoin. Scrivi il seed su un pezzo di carta e spegni il computer. Fine. Poiché Tails di default non conserva dati sulla tua chiavetta usb e cancella la RAM interna, non ci saranno tracce del tuo seed sul computer. Finché quindi proteggerai il foglio di carta, i tuoi bitcoin saranno al sicuro. Se perdi il foglio di carta, perdi tutto. Per effettuare transazioni dovrai riavviare nuovamente in un'istanza Tails e ripristinare il portafoglio utilizzando il seed presente sul foglio di carta. Transazioni a bassa frequenza di basso valore. L'online wallet. Se detieni una piccola quantità di bitcoin e raramente li spendi, potresti optare per un wallet online come quello offerto da blockchain.ifo o Coinbase. A differenza del tuo wallet mobile, non avrai alcuna preoccupazione sul fatto di utilizzare più dispositivi per gestire i tuoi bitcoin. Puoi accedere al tuo account utilizzando un indirizzo email e una password. Al momento della registrazione presta molta attenzione all'opzione di sicurezza disponibili per proteggere al meglio il tuo account dagli hacker e mantenendo accessibile solamente da te. Utilizzare una password complessa e un password manager è una buona idea. Ma come creare un paper wallet multifirma? Per i più paranoici si può anche optare di combinare più paper wallet e proteggersi ulteriormente da perdite e furti anziché detenere tutti i bitcoin in un unico paper wallet. I passaggi seguenti descrivono un processo semplificato per creare un paper wallet multi-sig 2 di 3. Verranno quindi creati 3 paper wallet, ma solamente 2 dei 3 saranno necessari per riscattare i bitcoin dal portafoglio. Se un singolo portafoglio viene rubato, perso o sequestrato non perderai nessun bitcoin. 1. Scegli tre posizioni per i tuoi paper wallet. Alcune location consigliabili includono la tua casa, la tua cassaforte, una cassetta di sicurezza e il tuo avvocato o un amico fidato, casi di familiari oppure semplicemente la tua scrivania. 2. Vai alla posizione 1 e crea un nuovo wallet utilizzando Electrum via Tails. Scrivi NON STAMPARE, ricorda NON STAMPARE, il SID su un pezzo di carta e conserva la Master Public Key su una chiavetta USB. Ripeti il procedimento per la posizione 2 e 3. 3. Avvia il tuo computer con il sistema operativo principale e combina le tre Master Public Keys in un portafoglio multifirma di solare visione o lettura. A questo punto vedrai tre indirizzi bitcoin creati e potrai inviare i fondi ad essi. 4. Per riscattare i fondi, crea una transazione in uscita nel tuo computer normale e salvala come una transazione base non firmata sulla tua chiavetta USB. 5. Reccati in una delle tre posizioni, crea un wallet dal tuo foglio di backup e carica e la transazione non firmata in Electrum. Successivamente firmala. 6. Non appena la transazione avrà due firme, potrai trasferire la stessa verso il tuo computer normale e trasmetterla alla rete. Troppo spesso si considerano gli hardware wallet come la soluzione più sicura per gestire criptovalute. La realtà dei fatti, però, è un'altra. Negli ultimi anni si è sentito parlare di centinaia di attacchi e vulnerabilità a rese pubbliche che hanno permesso ad hacker di accedere e rubare decine di milioni di dollari in criptovalute. Un esempio? Un ragazzino di soli 15 anni che è stato in grado di hackerare il software di un ledger iniettando date a piacimento, recuperare il seed attraverso l'analisi della corrente passante nell'hardware wallet tramite un oscilloscopio da 70 dollari ed estrapolare dati dalla SRAM di un Trezor. La situazione è estremamente preoccupante per un semplice motivo. Questi sono solamente gli attacchi resi pubblici. Quelli più importanti, un buon 75%, non sono ancora stati svelati. Senza perdere tempo andiamo ad analizzare le otto principali vulnerabilità degli hardware wallet e perché in alcuni casi non sono assolutamente la soluzione adatta a tutti. Vulnerabilità software. Le componenti software quando open source non sono completamente valutabili o confrontabili circa l'affidabilità contro attacchi avanzati se non attraverso i test di penetrazione proposti dalla società a base dei wallet stessi, che potrebbero volontariamente o non contenere errori o vulnerabilità. Inoltre la maggior parte dei wallet permette l'accesso e la gestione delle criptovalute tramite estensioni del browser che, anche qui, sono tutt'altro che sicure. Vulnerabilità hardware. Diversi componenti hardware critiche di tutti gli attuali hardware wallet in commercio, oltre ad essere prodotti in paesi dove è risaputo e esiste un forte espionaggio industriale, principalmente in Cina, non sono ispezionabili pubblicamente circa il loro source design e durante la fabbricazione. Stiamo parlando di tutto, CPU, power supply, schermo, eccetera. La lista comprende qualsiasi componente hardware. Supply chain. Non siamo in grado di tracciare l'inter-supply chain, dalla fabbricazione hardware passando per l'implementazione software fino ad arrivare alla spedizione verso l'utente frenale. Sia che il prodotto venga spedito dal produttore originale, sia da un rivenditore. Non sappiamo cosa succede in nessuna di queste fasi e con molta probabilità ognuna di esse è compromessa. È risaputo inoltre che sono decenni che i governi da agenzie pubbliche e private si inseriscono in tutte le fasi di produzione di un device. Con l'avanzare della tecnologia è sempre più difficile individuare queste manomissioni e quando si tratta di componenti piccoli quanto un granello di zucchero è praticamente impossibile. Malware nel device utilizzato. Un malware presente sul device utilizzato dall'utente finale per accedere all'hardware wallet, che spesso rimane nascosto ed invisibile per anni anche nei migliori dispositivi, consente ad un attaccante di recuperare facilmente informazioni sensibili come pin e sequenze di tasti, scattare screenshot, registrare video e alterare lo schermo causando gravi problemi di riservatezza e integrità. Porta in uso. Vengono utilizzate diverse porte, esempio quella USB, che potrebbero venire compromesse o essere compromesse sin dalla fabbricazione, passando silenziosamente vulnerabilità all'hardware wallet. Metodi di autenticazione come pin e password. Se l'attaccante riesce a vedere ed intercettare il pin e la password sul client utilizzato per accedere all'hardware wallet, è in grado di entrare in possesso di tutti i fondi. Autenticazione ha due fattori. L'attaccante potrebbe ottenere l'accesso ai dispositivi prendendo il controllo degli account telefonici, degli account di posta elettronica e dei codici 2FA collegati all'account utilizzato per l'hardware wallet. Perdita di seed e dati biometrici. Se il seed o la 2FA key vengono persi o rubati, o se la biometria dell'utilizzatore cambia, per esempio se le impronte digitali vengono alterate, l'hardware wallet diventa inutilizzabile. Poco prima della pubblicazione di questo corso, verso dicembre 2018, il team Wallet.fail ha presentato al 35esimo Chaos Communication Congress le stesse problematiche da me già discusse da svariati anni sulle principali vulnerabilità di ogni hardware wallet, ovvero software, firmware, hardware, fisiche ed architettura. Hanno presentato l'argomento, a mio parere, in maniera eccezionale, evidenziando visivamente tutte le problematiche già discusse nei capitoli precedenti. Ti consiglio vivamente di visionare la presentazione della durata di un'ora all'indirizzo wallet.fail. Ti consiglio inoltre di leggere la risposta di leggere Wallet sul proprio blog, per avere una visione dell'insieme più ampia e corretta. Considerazioni sull'apparente sicurezza degli air-gapped wallet. Gli air-gapped wallet, chiamati anche cold wallet, sono quei portafogli bitcoin che non sono connessi ad internet o ad altri device. È importante capire che la sola gestione di fondi offline non garantisce una totale sicurezza dei propri bitcoin. Gli air-gapped wallet, chiamati anche cold wallet, sono quei portafogli bitcoin che non sono connessi ad internet o ad altri device. È importante capire che la sola gestione di fondi offline non garantisce una totale sicurezza dei propri bitcoin. Alcuni ricercatori hanno infatti dimostrato che, con dei malware studiati ad hoc ed installati nel device della vittima, è possibile trasmettere le chiavi private da wallet che sono fisicamente separati da internet, device terzi e da altre reti. L'assunto, ricordiamolo, è quello che il dispositivo sia già stato completamente compromesso dal malware. Tuttavia, la ricerca è significativa, perché mostra che anche quando i dispositivi sono air-gapped, ovvero configurati per impedire la fuoriuscita di dati altamente sensibili, gli attaccanti potrebbero comunque riuscire ad estrarre le informazioni. Tale tipo d'attacco non è nuovo. Esiste infatti da anni un'ampia gamma di tecniche per riuscire nell'impresa di estrapolare dati sensibili da hardware offline. Alcuni esempi? Sfruttando le emissioni elettromagnetiche di dispositivi USB, i segnali radio della scheda video di un computer, le tecnologie infrarossi nelle telecamere di sorveglianza e di suoni prodotti dai dischi rigidi. Le tecniche più efficaci richiedono solo pochi secondi per estrarre una chiave bitcoin a 256 bit da un wallet in esecuzione su un computer infetto, anche se il computer non è connesso a nessuna rete. Una tecnica permette di estrarre in pochi secondi le chiavi private memorizzate di un cold wallet in esecuzione sul Raspberry Pi, che molti professionisti della sicurezza ritengono uno dei device migliori per gestire chiavi private. La tecnica funziona utilizzando i pin di input-output generici del Raspberry Pi per generare segnali radio che trasmettono la chiave. Le cuffie sullo smartphone ricevente funzionano da antenna per migliorare la qualità del segnale, ma in molti casi non sono nemmeno necessarie. La seconda tecnica permette di hackerare invece un cold wallet in esecuzione su un computer che trasmette la chiave utilizzando segnali ultrasonici non udibili. Questi suoni incomprensibili vengono già utilizzati da diversi anni per monitorare segretamente gli utenti di smartphone mentre si spostano in città. Ricapitolando, per proteggere al meglio wallet e chiavi private dovremo continuare ad utilizzare cold wallet quando possibile, ma dovremo prendere in considerazione, in base al nostro treat level, ulteriori salvaguardie tra cui tenere cold wallet allontano da smartphone, fotocamere e altri ricevitori. Un'ulteriore difesa è quella di isolare i nostri device con materiali metallici che impediscono la fuoriuscita di radiazioni elettromagnetiche. Ovviamente dovremo impedire che tali dispositivi non vengono inventati in primo luogo. Ricordiamolo ancora una volta, il fattore X è quello umano.